Il Cinema Teatro Artè ha ospitato la chiusura della campagna referendaria dei comitati di Capannori per il Sì. Ospiti d'onore della serata, il senatore Andrea Marcucci e l'eurodeputata Simona Bonafè. In platea molte persone di ogni età, oltre ai rappresentanti istituzionali, che hanno applaudito i vari interventi. È stata l'occasione per parlare delle ultime settimane, durante le quali la politica del no ha forse dato il peggio di sé, schierando i vari leader non tanto per spiegare le riforme istituzionali, bensì spesso per attaccarsi a bufale e in esattezza di ogni tipo solo per screditare gli avversari. La deputata italiana a Bruxelles si è poi prestata ad una interessante ed anche divertente intervista doppia con il sindaco di Capannori, Luca Menesini, a condurre la serata il capo servizio del Tirreno, Luca Cinotti, che ha messo a confronto idee e visione politica dei due esponenti del PD. In Europa di referendum giocato sulle bufale, io ahimè ne ho già visto uno, che era quello del giugno scorso sulla Brexit, dove devo dire che i sostenitori della Brexit ci hanno messo dentro di tutto. Vorrei evitare che questo referendum si giocasse sullo stesso campo e quindi penso che abbiamo ancora qualche giorno per sgombrare dal campo tutte le bufale che sono state messe e fra queste anche il fatto che se dovesse vincere, o meglio che ci allontaniamo dall'Europa, o anzi la bufala di Salvini è che questo referendum, se dovesse vincere il sì, ci mette al gioco dell'Europa. Non è così, non è così. Io sono arrivata a Bruxelles due anni e mezzo fa e vi posso...